Ed eccoci ritrovati signori negli studi di Style Channel Odeo, se preferite affordable art point, felicissima di avere nuovamente qui accanto a me alla mia sinistra Enrico Magnani, un'artista che mi piace ripeterlo, che sta avvalicando ad ampi passi tutto il panorama artistico nazionale ma anche internazionale, moltissime le mostre al suo attivo ma soprattutto moltissimi i fortunati collezionisti signori. Allora il nostro set quest'oggi, veloci, tre opere, quella centrale 100%, le altre due piccoline che vedremo poi nello specifico, eccole qua, la 4 e l'altra blu, la numero 5, 30x30, due chicche. Enrico Magnani signori, per quanto riguarda le quotazioni di mercato non dovete fare altro che chiamare al numero in sovrappressione o scrivere appunto nel nostro sito affordable art point. Enrico Magnani, piccole pillole importantissime di quello che è stato il tuo percorso artistico fino ad oggi. Ok, grazie Alessandra. Il mio percorso come qualcuno sa diciamo è un po' eclettico. Molto. È un percorso che comincia, io dico a sette anni, trovando i colori a olio in casa di mio padre, in cui io comincio a divertirmi con un certo talento credo anche di avere cominciato bene, poi la vita mi ha portato a diventare un ricercatore nella scienza, nella fusione nucleare. Pensate, fusione nucleare, qualcosa di completamente diverso. Qualcosa di completamente, apparentemente completamente diverso perché, ed è una domanda che molti mi pongono, ma come si riesce a conciliare la scienza con l'arte? La risposta è facile, la risposta è che la ricerca è in entrambi i campi, quindi c'è la ricerca scientifica ma c'è la ricerca artistica. Ora, dove si ferma la ricerca scientifica, cioè sulla materia, nel mondo della materia, comincia la ricerca artistica, che poi nel mio caso è anche ricerca spirituale. E io ho cercato di unire questi due campi del sapere dell'essere umano in un'unica cosa, cioè le mie opere uniscono l'arte e io spero, voglio che uniscano anche la spiritualità, la ricerca spirituale. Queste opere accomunano tradizioni spirituali del mondo intero, vengono veicolate con gli strumenti che sono caratteristici dell'artista in questo caso, però c'è sempre una ricerca, un percorso analogo a quello scientifico. Senti Enrico, allora qui abbiamo visto un denominatore comune delle tue opere, di cui abbiamo parlato anche spessissimo, molto a lungo nell'intervista, che ho avuto il piacere di farti, l'oro, il concetto di oro dietro il quale si cela, insomma tutto un ragionamento introspettivo è molto importante, vogliamo accennare? Sì, l'oro è ultimamente il cardine della mia produzione, ricordo sempre che ho appena terminato una grande retrospettiva, cento opere, dieci anni di produzione astratta, e il titolo era l'oro della terra, l'oro della terra perché? Perché la terra siamo noi, metafora del nostro corpo fisico, del nostro essere sulla terra, qui, ora, sulla terra, l'oro invece è metafora della nostra essenza, di ciò che è più spirituale, più puro, più alto, e che va trovato attraverso un lavoro, quindi questo oro della terra non si trova gratuitamente, ma richiede un processo, un cammino, un percorso, e questo io voglio comunicare con le mie opere. E ci riesci perfettamente. Allora, guarda che inquadratura in questo momento che ci regalano, poche battute su questa splendida opera, cento per cento signori. Beh, qui si vede molto bene il caos che turbina attorno a un punto di perfezione. Ora, questa sfera che possiamo vederla come simbolo di Dio, simbolo dell'anima, simbolo, ciascuno può vedere nella sfera, nella perfezione, la cosa che più preferisce, dico, ma sempre qualcosa di alto deve rimanere, contrariamente a tutto il caos, il turbinio, appunto, che l'ha a comuna. Ora, questa è una metafora del lavoro che noi possiamo fare su noi stessi per raggiungere la perfezione e l'oro interiore. Allora, l'opera numero sei, avete sentito anche una breve, ma importantissima descrizione, cento per cento. Possiamo vedere la blu? Un attimo, poche battute, grazie, regaliamola al pubblico che ci segue. Ecco, la blu, il contenuto, diciamo, è lo stesso, ma è una variazione sul tema. In questo caso, l'oro lo possiamo trovare nelle profondità del mare. Il mare. Questa è la serie dal titolo Nettuno, Nettuno era il dio del mare, e questa opera, in realtà, ripete un po' quello che dicevo prima, sul cercare la perfezione, l'oro, il tesoro interiore, però nelle acque, ha un taglio più, direi, femminile, più, sì, più delicato. Allora, beh, io direi, guardate, signori, la capacità, la qualità anche della sintesi. E poi, diciamocelo, sono opere che parlano da sole. Grazie, grazie. Enrico, grazie infinite di essere stato qui con noi. Continuate a seguirlo anche e soprattutto all'interno del nostro sito www.affordableartpoint.com. Da Alessandra Bardischi, Enrico Magnani, è tutto. Grazie, grazie.